Musica E' arrivato finalmente il giorno che tutti stavano aspettando Si gioca e c'è grande attesa per quello che sarà il verdetto del campo Ancora pochi istanti e poi si comincia Si fanno sentire i nifosi, c'è anche la partita, la sfera che si sta riscaldando Ancora un attimo di pazienza e si parte Buon divertimento amici da parte mia e di Lele Adani Passare a qui il loro cammino per la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo Incontro con molti spunti interessanti Il calcio è la nostra passione, è la nostra ragione di vita, Piero Ma cosa vogliamo di più? Cosa chiedere di meglio che poter assistere a un match dal vivo? Dimelo tu Io spero solo che lo spettacolo sia all'altezza della... ...to la nostra ragione di vita Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La scelta del tecnico è caduta sul 4-4-2, mi pare chiara l'intenzione di fare la gara senza però scoprirsi troppo. Sistema tra i più adottati in assoluto, garantisce un certo equilibrio tra i reparti e può essere variato facilmente in corsa. In base anche alle esigenze, per me sono ottime le intenzioni, ora aspettiamo il perdetto del campo. Grazie a tutti. Con l'aiuto della grafica vediamo gli azzurri che cominciano a questo match. Cigio Donnarumma tra i pari, in difesa Cervi con Toloi, Marella insieme a Verratti nel ruolo di mezzata. In avanti giocano con una sola punta, vedremo se basterà per tenere impegnata la difesa avversaria. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. L'appoggio su Cervi può trovare il gol, hanno trovato subito il gol, partita già caldissima. Ecco che ci viene riproposto il replay del gol e da queste immagini risulta evidente la complicità del portiere nell'occasione. Non ha coperto bene sul primo palo e poi si è fatto infilare troppo facilmente. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Marella, riceve Di Lorenzo. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Ha spazio per andare. Fuori gioco segnalato, non era facile in diretta. Lo stesso che sfuma. Varella. Cross in area. Ancora lui non sbaglia. Secondo gol personale. Replay meritato è per questo gol da sottolineare l'assist del compagno. Quando si dice usare bene la testa, Pier, ha avuto tutto lo spazio e il tempo per prendere la mira. Da lì non poteva sbagliare. Match che riprende, ha allungato portandosi sul 2-0. Palla che finisce in out. Fugge bene alla marcatura. Intervento providenziale in copertura. Torroni in possesso di palla. Spinazzola. Verratti. Palla che arriva Spinazzola. Attacca l'Italia. Va via il proprio marcatore. Bravo qui nell'interrompere tutto. Prova ad attaccare l'Italia lateralmente. Varella. E c'è il gol. Meraviglioso in acrobazia. Il replay ci permette di apprezzare meglio la splendida giocata con cui ha trovato il gol. Un colpo che non si vede spesso ma che vale da solo il prezzo del biglietto. Ora conducono per tre reti a zero. Supera l'avversario molto bene. Si libera bene a occhio perché è solo. C'è la respinta del portiere. Si gioca. E c'è il gol. Gol sulla ribattuta qui. Disattenta la difesa. E ha colpito. Il replay ci mostra l'azione del gol. Ha raccolto la respinta del portiere e l'ha messa dentro. Io non credo che l'estremo difensore abbia particolari colpe qui, Pierre. Ha fatto il massimo. Una partita a senso unico. 4 a 0 per loro. Matteo Pometano. Italia che ha fatto più possesso palla finora. Stanno facendo letteralmente girare la testa agli avversari. La palla non resta mai troppo lungo tra i piedi di un giocatore. C'è sempre un compagno libero a cui scaricarla. La partita è stata preparata davvero bene. Complimento allo staff tecnico a questi ragazzi. Barella. Intervento così, così. Attenzione. Attenzione, errore grave. Prova la botta. Conclusione ribattuta. Precevole l'intervento del portiere. Palla verso il centro dell'area. Pulisce l'area. Norda del vantaggio. Perdo il possesso. Capisce tutto. Recupera un buon pallone da tre quarti. Palla in out. Sarà rimessa laterale. Si riprenderà con la rimessa laterale. Recuperano il pallone. Possibilità di contrapiede. Attenzione. Verratti. nulla di fatto. Il portiere l'ha posizionato bene e non ha avuto difficoltà. E tecnica parecchio di cui essere contento per quello che si è visto finora. Direi prestazione quasi perfetta della sua squadra. Sinceramente che era la vigilia ci si aspettava. Io per primo una partita più combattuta, più equilibrata. E invece stiamo assistendo a un match a senso unico. Una squadra protagonista e l'altra costretta a guardare. È quasi impotente anche. Difficile capire dove finiscono i loro meriti e dove iniziano le colpe degli avversari. In ogni caso stanno dando una prova di grande forza. Anzi, una vera e propria lezione di calcio. Diciamola tutta. Grande tempestività di questo intervento. Di Lorenzo. A metri per andare Spinazzola. Palla lunga sul secondo palo. Intervento super. Da pochi passi il portiere ha salvato tutto. Che riflesso pazzesco. L'avevo vista già dentro io. Il tecnico sceglie il cambio. La mette in mezzo. Non può sbagliare da lì. Appuntamento con la tripletta rimandato. La messa fuori. I tifosi erano già pronti a esultare. Ed è lui il primo a sapere di aver soppato una grande occasione. Porta via il pallone. Si giocherà ancora per due minuti. Leonardo Spinazzola. Si inserisce bene e recupera. L'arbitro fischia e manda le squadre al riposo dopo i primi 45 minuti. Vero protagonista di questo match, come confermano anche i numeri. Ha fatto diventare matta la difesa avversaria. Battendo il portiere in più di un'occasione. Credo che si ricorderà a lungo di questo match. C'è il fischio dell'arbitro. Comincia dunque l'incontro. L'appoggio sfracervi. Hanno trovato subito il gol. Partina già caldissima. Varela. Cross in aria. Ancora lui non sbaglia. Secondo gol personale. Prova ad attaccare l'Italia lateralmente. Varela. E c'è il gol. Meraviglioso in acrobazia. Supera l'avversario molto bene. Si libera bene, occhio, perché solo. C'è la respinta del portiere, si gioca. E c'è il gol. Gol sulla ribattuta qui. Disattenta la difesa. Prova la botta. Preggevole l'intervento del portiere. Alla lunga sul secondo palo. Secondi 45 che sono iniziati con l'Italia che proverà a confermare il vantaggio. Occhio all'avanzata di Spirazzola sulla fascia. Lancio morbido verso il compagno. Pulisce la tre quarti evitando guai peggiori. Conclusione che non trova la porta. Decisiva la deviazione. Può scegliere chi servire. Varella. Attenzione, il pallone è lì. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Riconquistano palla. Di Lorenzo. E c'è il gol. E sta diventando davvero un tiro al bersaglio imbarazzante. Gol che ci viene riproposto da altra angolazione. Da apprezzare sicuramente la conclusione dell'attaccante. Bravo ad approfittare del piazzamento errato del portiere. E ha lasciato troppo spazio sul primo palo. Match a senso unico. 5 a 0. Una lezione. Si ripartirà dunque col calcio di punizione contro l'Italia. Non è solo. Ci mette una pezza e ferma tutto. Appoggio su a Cervi. Gran dribbling. Prova a calciare. E c'è il gol. Partita straordinaria. E tripletta. Che entra nella storia di questo match. Rivediamo l'azione del gol qui. Il pallone mesce in mezzo era davvero invitante. Si è coordinato bene e ha poi battuto il portiere con una volée imparabile. 6 a 0. Partita in cassaforte. Punizione severissima per i loro avversari. Non concede nulla all'attaccante. C'è il movimento dei compagni. Ecco Politano. Nessun dubbio. Nettamente in offside. Prova il blitz in avanti. Spirazzola. Attenzione. Tentativo murato. Hanno spazio per andare in contropiede. Brutta gestione del pallone. Ecco Politano. Avanza sulla tre quarti. Il tuffo del portiere evita il gol. Ma la conclusione non era affatto irresistibile. Ordinare amministrazione per uno come lui. Parata più spettacolare. Che difficile questa. Occhio al corner. Intervento così così. Palla ancora pericolosa. Giorginho. Si fanno vedere i compagni. Il portiere in tuffo si salva. Non c'è nessuno in mezzo ad approfittarne. E c'è il gol. Ne hanno fatto un altro. Ormai hanno perso il conto. La partita davvero a senso unico. Ha battuto il portiere dopo aver saltato il proprio marcatore con una facilità quasi irrisoria. Un gesto tecnico che merita davvero di essere apprezzato meglio con questo replay. Match fin qui a senso unico. Si attende solo il fisico dell'arbitro per porre fine a questa esecuzione. Sfuma l'azione degli azzurri. Rompe la marcatura. Occhio all'accelerazione. Conclusione comoda per Donnarumma. Manca poco al segnale di chiusura con gli ospiti che possono gestire un ampio vantaggio. Che bella Italia. Sono davvero felice. Sta arrivando un successo convincente e non è mai stato in discussione. Poi gli azzurri hanno trovato da subito la chiave del match. e per gli avversari non c'è stato niente da fare. Ottima lettura sull'azione pericolosa. La respinta. Attenzione. No, è fuori gioco. Tutto fermo. Tutto fermo. Occhio. C'è fuori gioco. Palla persa. Ci sono metri per andare. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Occhio al movimento dei compagni. Occhio al corso a cercare Varella. E la messa. Gesto tecnico spettacolare. Conclusione al volo perfetta per tecnica e coordinazione. Traversone decisivo dal quale è scaturito il gol che stiamo rivedendo. E poi è riuscito a tenere botta con il fisico e a concludere ugualmente a rete. Non era facile in quelle condizioni. Non credo che ci siano dubbi su chi vincerà questo match. Bisogna solo capire quale sarà il punteggio finale. Ci sono state tante interruzioni. Dunque quattro minuti di recupero. Ripatte la conclusione. Portiere che la combina grossi. Ha rinvio sbagliato. Attenzione. Il portiere qui dice di no. C'è il pressing. Grande giocata. A metri per andare. Calenzipario sul match. Importante successo per la formazione ospite. Risultato che non fa una piega, Pier. Se c'era una squadra che meritava di vincere oggi erano loro. Hanno avuto il pallino del gioco in mano per larghi tratti del match. Hanno concesso davvero il minimo sindacale alla formazione rivale. Buon appetito! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.